Chi meglio di Nello Cutolo, capitano di mille battaglie, può fotografare l'attuale situazione dell'Arezzo che insomma da qualche mese ha avuto una metamorfosi positiva? Assolutamente sì, credo che ci sia stata veramente un'evoluzione stra-positiva. Oggi posso dire che c'è una squadra che va in un'unica direzione, ma non che prima non lo facesse, perché si è creato quel clima giusto dentro lo spogliatoio e la consapevolezza di dove ci troviamo. Che giocare per l'Arezzo non è, con tutto il rispetto, giocare su tante squadre che stanno nel nostro girone. Quindi siamo consapevoli di questo e sono convinto che da qui alla fine faremo un grande finale di stagione. La squadra adesso ha un'identità, contrariamente a quella vista a inizio campionato. Cosa è successo dentro lo spogliatoio? No, di sicuro ci sono tantissimi fattori che ti fanno inciampare durante un percorso. Questo adesso è difficile identificarne uno, perché è stato veramente un inizio di stagione abbastanza complesso, perché ritrovarsi poi dopo una retrocessione non era facile. Ma io sarò ripetitivo, a me piace evidenziare, esaltare questo momento dell'Arezzo, perché adesso ci dovremmo riconoscere tutti in questa squadra, perché è una squadra che ha grandissimo carattere. Nonostante la giovane età, nonostante tanti anni, ma anche gli over, posso dire che c'è grande coesione. C'è voglia di rivalza in ognuno di noi. E noi dobbiamo far sì che possiamo arrivare a fine stagione per cercare di arrivare più in alto possibile. Ecco, peccato perché domenica era uno scontro diretto, diciamo che più di una decisione arbitrale ha lasciato veramente così abbastanza dubbiosi. Sì, posso dire che non l'ho mai fatto, non mi sono mai lamentato delle decisioni arbitrali, perché come sbagliamo noi sbagliano anche loro, ma domenica è stato veramente, sono stati fatti degli errori troppo evidenti, dove era uno scontro diretto molto sentito da parte nostra, perché volevamo cercare di metterci lì sotto, ma siamo rimasti lì, però veniamo fuori con la consapevolezza che siamo una squadra tosta, e ripeto, ne abbiamo ancora tante partite da fare e sono convinto che dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile. Poi ci sono i play-off. Assolutamente sì, è il nostro obiettivo onorare questo campionato e arrivare più in alto possibile, ma di questo veramente ne sono straconvinto, perché lo sento dentro allo spogliatoio, anche attraverso i miei compagni, veramente c'è grandissima voglia di rivalza da parte di tutti.